Ragazzi, vedete questo pazzo qua? Praticamente questo è Nick. Adesso non sa quello che sto per fare, però praticamente io gli ho detto che andavo a scavare robe, cose strane, vabbè. Però io in realtà mi poziono con la pozione di invisibilità pozionesca. E andrò a prenderlo per il sedere, no, sto scherzando. Vado semplicemente a spiarlo, perché mi sembra che lui voglia abbia in mente una sorta di piano. Io ora non so che cosa stia facendo. Io gli ho detto fai quello che vuoi, non lo so. Lui sa che ovviamente ci siamo solo io e lui in questo momento non serve. E sa che ovviamente, diciamo, io faccio cose, sto facendo cose con voi, tipo sto registrando, eccetera. Quindi dovrebbe essere tranquillo lui, cioè dovrebbe pensare, ok, sta lontano, fa le sue cose. Quindi adesso è il momento migliore, perfetto per spiarlo. Ok, scusate per questa risata molto strana. E do scuse se vi siete traumatizzati, è anche normale, vi dico, perché chiaramente, diciamo, può traumatizzare una risata così. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Ah, c'è una pecora, vedete? Se io adesso lo faccio così, tipo... Adesso si chiederà se è stata la pecora, porca puzzarda. Sta pecora puzzardo. Adesso la incuccolo. Per chi vuol capire, capisca, ecco. Nel senso, io non voglio essere così strano. Dai, sta scavando un albero, ma che noia. Dovrebbe, cioè nel senso... Perché dovrebbe scavare un albero? Adesso... No, ha pure lasciato gli alberi. No, vabbè, questa cosa non andrà ignorata. Cioè, lo devo punire nella gatta buia dopo. Dopo vado a punirlo, ragazzi. Cioè, perché comunque lì c'è una gatta buia che abbiamo costruito. E dobbiamo andare per forza a punirlo. Perché no, cioè, non è normale come cosa. Cioè, ma vi rendete conto lasciare gli alberi in alto? Cioè, questa cosa è un reato contro i server di Minecraft e contro tutta l'umanità. Cioè, boh, veramente. Sciocco basito contro tutta l'umanità di Minecraft, però. Ancora, che scavaglia... No, se ne lascia un altro. Non ci... No, non ci credo. Io non ci credo. Non ci voglio credere. Cioè, non... Ma vi rendete conto? Cioè, queste persone così vanno proprio punite male. Cioè, vanno... Vanno messe... A rogo. Vanno bruciate. Vanno deturpa... Deturpa... Cosa sta facendo, ragazzi? Ragazzi, guardatelo. Ma si sta... No, vabbè, adesso lo devo spostare. Scusate un attimo, ma lo devo spostare per forza. Oh, Nick. Ciao. Allora, ma perché ci hai messo meggiore per rispondermi? Dovevi smutarti subito. Comunque, guarda. Io sono qua molto lontano. Sto cercando, diciamo, dei relitti delle navi rotte. Praticamente, tu cosa stai facendo? Eh, sto piantando patate. Piantando patate, ho capito. In che senso, scusami. Eh, sto scavando la terra, ce la sto zappando e sto poi ripiandando delle patate. Ah, ma non è vero. Cioè, nel senso, ho capito, quindi stai scavando patate, ho capito. Va bene. Interessante come cosa da fare. Comunque, niente, dammi anche mele alle patate dopo perché sono buone. Nel senso che... Nel senso che vanno cotte poi le patate perché sono molto buone. E quindi, niente, questo. Fammi sapere un attimo che cosa stai facendo dopo perché magari ti risposto e ciao. Ciao. Avete visto cosa ha fatto? Avete visto? Ma sta... Sta praticando... Guardate! Sta porca puzzarda la cesta. No! Adesso sono proprio così, proprio, porca puzzarda. Scusatemi, mi è partito di nuovo l'embolo. Però, ragazzi... Scusate... Allora... Non può fare queste cose. Avete capito cosa sta facendo? Ma è una cosa... Ma mi ha tolto i letti, praticamente. Se io adesso muoio... No, 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 no. Se muoio io respawno via in Africa, praticamente. No, avete capito? Ma sta togliendo tutti i letti. Ho capito. Questo qua va... Va proprio esecuzione. Allora, venite oggi in live che facciamo le esecuzioni oggi in live. Dalle 15 alle 17 in live. Venite, a parte il sabato e la domenica. In live, ovviamente, dove? Sul canale Viola. Chiamato anche W... E qualcosa... T-W-I-C-H. Vabbè, avete capito? Su quella piattaforma lì che non voglio pronunciare perché ho paura. Ma non so nemmeno se è vera questa cosa. Però, vediamo un attimo cosa sta facendo. Sta di nuovo aprendo le cesse. Sta scavando. Sta rubando. Però, magari in live, magari riusciamo anche a spiarlo. Vediamo un attimo. Non lo so. Dovremmo tipo inventarci delle cose un po' strane. Ecco, di nuovo. Sta facendo la stessa cosa. Ma perché sta facendo questo? Cioè, io, secondo me, lui... Ha qualche cosa strana con questo. Cioè, non vorrei dire quello che penso. Io, veramente, sto cercando di inventarmi cose. Però, perché non sarei Family Friendly se dicessi la verità. Avete capito, no? Vabbè. Facciamo finta che lui abbia un certo legame con questo tipo di pianta. È un legame chissà dove, però. Vabbè. Vabbè. No, ho sputato sullo... Che schifo che faccio. Ho sputato dappertutto, ragazzi. Ho inandato le cascate del Niagara, altro che... Mamma mia, no. Veramente, faccio schifo. Ah, però... Mettiamo una musica bella. Anzi, sapete che musica mi metto adesso? Metto questa qua. Ok, aha, spiglio! Vediamo un attimo. Adesso sta di nuovo aprendo cose. Però, secondo me, è un po' noioso adesso. Perché sta facendo sempre le stesse cose. Cioè, diciamo che gli vuoi fare qualcosa. Tipo, gli dico... Adesso lo sposto. Onik. Allora, ciao. Dovresti, prima di tutto, parlare più alta voce perché... Ok, ok. Ok. Costruiscimi qualcosa di importante, non lo so. Perché praticamente io quando vengo... Costruiscimi una sorta di mini, di piccolo monumento. Perché io quando vengo... Diciamo... Quando ritorno, io voglio vedere il monumento. Tu sai, no? Che io sono qua via e quindi voglio vedere il monumento quando torno a casa perché è molto bello. Ok, ok. Ok. Ho detto sveglio. Ok. Bene. Quindi, sei pronto ad andare? Sì, sì. Ciao, ciao. Ciao. Ok. L'ho spostato. No, vabbè, ma questo qua è deficiente comunque. Io dico una cosa, non la fa. È deficiente su Minecraft. Allora, cosa sta facendo? Ma sta costruendo... Molto interessante da fare. Sì, però non dovremmo... Ma perché sta facendo sta roba? Non è normale. Ok, sta facendo... Vedo che sta prendendo l'ascia in questo momento e sta tagliando gli alberi. Io ora mi chiedo, ma perché? Cioè, non gli alberi, però comunque le cose che lui ha già preso. Io ora mi chiedo, ma perché sta piazzando le cose? Secondo me ha cambiato idea. Tipo, vuole mettere... Voleva fare tipo una sorta di mini... Ecco. Sta facendo una sorta di mini me. No, cos'è sta roba? Ragazzi, io non voglio sapere cosa sta facendo. Però, secondo me... Avete capito tutti che cosa sta facendo, secondo me, è vero? Guardate. No. Cos'è sta roba? Cos'è? Cioè, perché... No. Io mi dissocio qualsiasi cosa possa essere. Vedete? Vedete? Io lo sapevo che dovevo spiarlo. Secondo me stavo facendo qualcosa di strano. Io ne ero certo al 100%. Porca puzzarda scurreggiona cagata. Da una scrofa maiala. Ho detto una cosa... Ho detto una cosa di troppo. Chiedo scusa. Non so se questa parte... Io spero di ricordarmi di toglierla. Però comunque non ho finito. Volevo dire inculastinto. Inculastinto vuol dire... Vuol dire praticamente un nostro gergo nuovo. Praticamente vuol dire che praticamente è stata inficcata dentro la paglia. Della paglia. Sì, della paglia. Quindi vi chiedo scusa se vi siete offesi e avete pensato ad altro. Però no. Non è ciò che intendevo io. Io intendevo altro. E qua comunque devo smettere di vedere sto coso perché mi sto traumatizzando pian piano. Non so che cosa... Cioè io vedo mille forme da qua. No, vedo mille... Vedo mille forme. Ma cosa sta facendo? Ma è impazzito. Sta costruendo altro. Ma scusa, questo sarebbe un mio monumento. Cioè nel senso questo dovrei... Oh mio Dio. Se lo vedete di profilo sembra una persona... Una persona, dai. Una persona che tipo sta strisciando ecco per dire. Io sono sconvolto. Non voglio sapere altro. Adesso guarda. Vediamo un attimo. Lo sposto perché non va bene. Ehi là. Ciao. Ehi là. Ciao. Perché stai ridendo? Dimmi un pochino. Sono molto curioso. No perché mi fa ridere. Allora Nick però quando io ti faccio una domanda mi devi rispondere immediatamente. Svegliati. Perché mi fa ridere... Mi fa ridere piantare le patate. E non interromperti. Bene. Allora ti fa ridere piantare le patate. Ok perfetto. Ma questo monumento l'hai già costruito giusto? Ci sì. No vabbè. Nick. Nick. Allora ci sei o ci fai? Ma scusami se stiamo facendo... Svegliati. Ci sono. Ma cioè mi sembri rincogli... Au. No no ci sono ci sono. Allora ha concluso questo monumento ragazzi. Ha concluso purtroppo devo dire. Molto purtroppo. Perché guardate cosa sembra. Cioè vi rendete conto? Sembra... Secondo me sembra un... Come faccio a dirlo? Non posso nemmeno dirlo sinceramente. Però adesso dobbiamo spiare lui. Dove si trova? L'ho perso di vista per un attimo. Perché ero andato a fare le mie cose. E... Ah ok. Le mie cose nel senso. Vabbè lasciamo perdere. E adesso sta là però comunque. Cosa sta facendo? Molto interessante. Ok. Sta mettendo dei blocchi di legno di nuovo. Che sinceramente non so perché sta facendo questa cosa. Oh porca puzzata sono caduto. Dobbiamo stare... Ma sono in... No. Mi dissocio. Cosa ho detto? No mi devo ricordare. No ora. Cioè adesso demonetizzazione massima. Ok allora. Ora sono invisibile. Prima non ero invisibile. Ora sono invisibile ragazzi. Allora cerchiamo di ricordarci però di non dirle parolacce. Perché io sono un po' strano. Allora ok bene. Qua c'è. Sta facendo tipo un'asta. Io mi devo preoccupare. Non mi dire. Scusate se è quello che penso io. È da preoccuparsi. E state... State pronti perché secondo me vi dovete preoccupare anche voi fra poco. Cioè secondo me vi scioccate. Quindi. Io lo dico per i sensibili. Vi chiedo scusa. E soprattutto vi dico non guardate se siete sensibili. Anche perché sta facendo. Madonna mia. Quanto c***o. Cioè quanto alta la sta facendo. No vabbè raga. Cioè oggi sto male con le parolacce. Allora. Vediamo un attimo. Ah io vi ricordo di nuovo. Twitch. Twitch oggi dalle 15 alle 17. Eh oggi dalle 15 alle 17. Voi state vedendo questo video alle 14. Quindi dalle 15 alle 17. Vedrete il canale. Bellissimo di Dunis. Dove vedremo altre cose. Altre mille cose. Bellissime. Fantastiche. Che altro. Non si può. Non si può. Non si può. Però. Scusate. Sapete cosa. Non si può nemmeno il video di oggi. Cioè veramente. È un disastro. Un disastro sopra un disastro. Cioè ho nominato il canale quando non avrei dovuto nominare. Vabbè. Comunque il canale delle live. Il canale viola. Secondo me si può dire. Non è vietato però. Vabbè. Scusate un attimo. Ma sta facendo l'up dance. Ma si può dire l'up dance. Cioè. Ora so che sembra un meme sto caspita di. Si può dire ma. Non so se si. Vabbè. Sta facendo comunque una cosa strana. Sta ballando. Tipo. Avete presente quando andate tipo. Su GTA. Allo strip club. Uguale ragazzi. Cioè nel senso. E lui sta facendo. Oh mio dio. Mi sto. Mi sto completamente scioccando. Allora. Adesso lo sposto. Guardate. Guardate. Ciao Nick. Ciao. Ciao. È completamente strana questa cosa. Perché io sto andando in giro Nick. E sto trovando. Delle navi un po' bucate. Ecco. Però vabbè. Comunque niente di che. Tu cosa stai facendo? Dimmi un po'. Sono i relitti comunque. I relitti. Esatto. Sì. E tu cosa? Ho finito di piantare le patate. Adesso sto cercando qualcosa da fare. Ok. Bene. Stai cercando qualcosa da fare. Ho capito. Va bene. Ehm. Ma no niente. Perché praticamente ho visto una nave che assomigliava ad un pisello. Ah. Ok. Certo. Certo. Ma sì. Ma dopo tutto non è. Non è altro. Scusa. Sai cosa? Cosa? Ehm. E purtroppo devo dirti. Guarda. È giunta la fine del video. Ah. E quindi. E quindi. Vieni con me. Vieni con me. Forza. Ah no. Tu qua cosa hai costruito? Prima di tutto ti ho spiato per tutto il video. Ah. Lì hai fatto un pisello. Qui. No. Non so cosa hai fatto. Qui hai fatto un coso dall'up dance. Poi hai rubato. Hai distrutto i letti. Hai tagliato gli alberi e li hai lasciati alla metà. Ma cosa hai osato fare? Cioè ma tu sei. Sono stato io. Non sei stato. Ma ti ho vinto le prove. Le prove. Sì le dite l'alte rego. No. Vieni con me. Se no ti devo uccidere. Ah. Prima di tutto. Vieni. Vieni. Vieni nella gattabuia. Perché dobbiamo far vedere anche alle altre persone. Come funziona la sala dell'uccisione. Perché tu qua devi essere processato per sempre. No. E quindi vieni. Ho fatto io quella. Vabbè l'hai fatta tu. Parla forte. Se no. Ho fatto io quella. Ok. Hai fatta tu sì. No non è tua. Infatti è tua. Vieni. Dai vieni che è tua. Forza vieni. No. No sì sì forza entra entra. Dai vieni qua. No. Ok 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 ok. Mi sono messo in creativa perché ho dovuto prendere il latte ragazzi. Ok perfetto. Questa sarà la tua morte lenta e dolorosa. affinché tu possa scendere nell'oblio della morte e possa scendere nell'oblio della morte e possa scendere. Aspetta. Cosa vuoi? Non mi dire aspetta scusami. Un piccone. No non puoi non puoi. Se tu lo fai. No Nick se lo fai guarda che ti uccido. Ok perfetto. E adesso gli hopper guardate cosa fanno. Catturano tutto e fanno buono. Ma comunque non è vero. Hanno catturato un beato. Ah sì stanno catturando. Stanno facendo. Stanno facendo. Di dare il tempo. Bene se volete vedere altre torture di Nick venite sulle sulle live di Duny dalle 15 alle 17 ogni giorno a parte sabato e domenica sul canale Viola. Sì esatto e anche se volete vedere la lap dance potete anche venire magari non lo so. Vi piace la lap dance di Nick. Chi lo sa. E quindi noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao.